Prima aporazione alle ore 23 per l'agenzia italianews.it La Lega tra l'8,5 e il 12,5%, il Partito Democratico tra il 17 e il 21%, Forza Italia tra il 5 e il 9%, Fratelli d'Italia tra il 22,5 e il 26,5%, si afferma il primo partito, Movimento 5 Stelle tra il 14 e il 18%. Tutti gli altri partiti, compreso Calenda e Renzi, si affermano tra il 5 e il 9%.